salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo braccialetto che si inserisce direttamente dalla mano essendo perle sono diciamo flessibili con tutto il cotone e lo realizzeremo in vista dell'estate che sta arrivando infatti questi bracciali con perle colorate si possono fare di tutti i colori e quindi sfoggiarli in estate oppure fare graziosi regali a grandi e piccoli potete utilizzare per farlo anche un filato elasticizzato quello che all'incirca si usa per fare i costumi possiamo utilizzare anche quello perché è molto più flessibile e quindi lo potete adattare meglio al vostro polso prima di presentarvi materiale e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò questo cordoncino blu lo lavorerò con uncinetto 1 e 75 poi avrò bisogno delle perline che io in questo caso ce l'ho di varie misure guardate sempre nella tonalità del blu e un ago per inserire le perline inseriamo il filo nell'ago e ci dobbiamo assicurare però innanzitutto che l'ago passi completamente nel foro della perlina dopodiché iniziamo ad inserire le nostre perline le possiamo inserire in modo le distinguiamo comunque dal colore e le inseriamo nel nostro filo cerchiamo comunque di inserirne un numero maggiore di quanto ce ne possano servire perché dovete comunque fare riferimento al vostro polso le misure le perline inserite non saranno per tutti uguali quindi man mano che lavoriamo poi prendiamo la misura nel nostro polso stesso il bracciale è formato da viene poi comunque la lavorazione piegata in due quindi la lunghezza della lavorazione risulterà il doppio di quello che poi utilizzeremo perché poi lo facciamo in due quindi deve essere il doppio inseriamo un numero maggiore comunque di perline perché poi se rimangono nel filo si possono tranquillamente sfilare e utilizzare per altri lavori ci rivediamo quando le abbiamo inserite tutte dopo aver inserito le mie perline posso togliere lago e iniziare la lavorazione all'uncinetto quindi prendiamo l'uncinetto facciamo un cappietto iniziale che non conteremo perché lo stringiamo e iniziamo con una catenella quando iniziamo il lavoro lasciamo un pezzetto di codina che poi ci servirà quando termineremo per legare il tutto avviciniamo le perline prendiamo la prima perlina abbiamo fatto il cappietto iniziale facciamo una catenella la sistemiamo qui andiamo nella parte destra prendiamo il filo tenendo la perlina ben dici vicina alla lavorazione e facciamo una catenella quindi la inseriamo avviciniamo l'altra sempre parte destra prendiamo il filo catenella e così dobbiamo fare per tutte le perline che abbiamo quindi una lavorazione super facile adatta a tutti ma sicuramente dall'effetto finale molto bello catenella come vedete guardate le perline vengono inserite non restano lente con questa lavorazione con questo tipo di unione fatto però nella parte destra quindi avviciniamo la perlina così andiamo qui prendiamo il filo e lo facciamo passare quindi la blocchiamo ne prendiamo un'altra facciamo e facciamo un pezzetto insieme e poi lo possiamo fare anche da soli avviciniamo la perlina prendiamo il filo e agganciamo quindi facciamo una catenella avviciniamo la perlina di nuovo così prendiamo il filo sempre nella parte della nostra destra e agganciamo guardate queste sono le perline che abbiamo agganciato quindi continuiamo con l'aggancio delle perline e ci rivediamo quando abbiamo fatto un pezzetto di lavorazione vi farò vedere come prendere poi la misura quando già ne avremo inserite un bel po arrivata a questo punto mi sono fermata perché ho preso la misura del mio polso ed è di 16 centimetri quindi ora vado a misurare la lavorazione vado qui dall'inizio estendo la lavorazione sul metro ed è di 36 centimetri che per me vanno bene perché 16 centimetri il polso per due perché poi questa lavorazione la pieghiamo a metà fa 32 centimetri aggiungo 4 centimetri per la flessibilità di entrare dalla mano quindi mi fermo a questo punto quindi riprendo l'uncinetto lo inserisco qui nell'ultimo punto faccio una catenella vado all'altra estremità qui come vedete ci sono le perle che mi sono avanzate e lo inserisco nel primo punto nella prima catenella che abbiamo fatto e prendendo il filo lo faccio passare con maglia bassissima così faccio una catenella e taglio il filo un pochino più lunghetto non lo sfilo dal cappietto perché ancora mi serve per completare la mia lavorazione dopo quando questo questa lavorazione già unita inserisco il dito da una parte e lo attorciglio potete attorcigliare così manualmente da tutte e due le parti guardate girate in senso opposti così guardate come si stretta tutta la lavorazione dopodiché riprendiamo ve l'ho fatto tagliare solo perché dobbiamo fare una maglia bassissima e una catenella quindi magari voi lo tagliate un pochino più lungo però per attorcigliare è meglio averlo tagliato quindi dopo aver girato tutta la lavorazione ci inseriamo guardate dobbiamo prendere una parte da questa parte dalla parte nostra e dall'altra mettiamo il filo nella parte sotto e realizziamo una maglia bassissima facciamo passare uno e facciamo passare nelle altre una catenella e sfiliamo e stringiamo questo è il risultato che abbiamo ottenuto poi lo sistemiamo giustamente con le mani così molto naturale è molto molto carino prendiamo le due estremità del filo quello iniziale quello finale e li leghiamo facciamo un nodo quindi facciamo il primo nodino facciamo il secondo e facciamo il terzo dopo di che taglieremo il filo tagliamo il filo prendiamo il nostro bracciale guardate e lo inseriamo nella mano guardate la flessibilità delle perline la lavorazione ci permette di farlo tranquillamente qui c'è la parte finale e questo è il risultato di un braccialetto veramente semplice semplice da fare guardate quindi con questa misura riuscirete tranquillamente a inserirlo e nello stesso tempo non vi sta più di tanto largo perché aderisce perfettamente al polso e la differenza dei filati è che questo è un filato più adatto a fare questo genere di lavori questo invece è un cotone semplicissimo e si ottiene inserendo lo stesso risultato le perline che io ho inserito per uno e l'altro progetto guardate ci sono anche delle perline piccoline guardate questa che piccolina quindi con l'attorcigliamento del bracciale stesso quindi delle lavorazioni si creano degli spazi di perle grandi con perle più piccole e di medie dimensioni quindi comunque una bella visibilmente bello quindi ricco di perle diverse se poi voi lo fate con cristalli oppure perle cristalli è secondo me ancora più bello spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo è veramente semplicissimo da fare diciamo adattissimo ai principianti ma perché no un passatempo per quelle più esperte se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondere vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do l'appuntamento al prossimo video